Musica Allora abbiamo con noi Fausto Barzanti, poker manager di Big Poker. Ciao Fausto, cosa ci racconti di questo torneo? Questo torneo come da aspettative sta andando molto bene. Oggi è stato superato il cap di iscrizioni che era fissato a 200, in realtà siamo andati ben oltre. Domani ci aspettiamo un altro grande numero di partecipanti, quindi un torneo che con l'accoppiata Big Poker e Shark Bay sta avendo un grandissimo successo. Noi abbiamo addirittura portato una quarantina di giocatori che si sono qualificati online. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che sono già online anche i satelliti per la prossima edizione di aprile, che sarà sicuramente un altro grande successo. Cosa dire di più? Dire che l'organizzazione è come sempre perfetta, i giocatori sono tutti molto contenti, a parte quelli che vengono eliminati, ma d'altronde ci vuole anche chi perde per avere qualcuno che vince. Direi tutto bene, quindi dai. Benissimo. Un buon augurio per i prossimi giorni? Per i prossimi giorni ci auguriamo innanzitutto che vinca qualche giocatore di Big Poker, visto che rappresentano la nostra piattaforma di gioco e in particolare magari qualcuno dei miei giocatori preferiti, tra cui ad esempio tutte le ragazze che si sono qualificate. Sai che noi Poker Manager ci teniamo al fatto che anche le donne abbiano un ruolo da protagonista in questo gioco. Benissimo, noi lo sosteniamo ovviamente. Grazie Fausto e ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie a tutti.